Cultura e turismo si fondono nel binomio che dà vita alla rassegna cinematografica il Flaiano al Marina, nata dalla sinergia tra i premi internazionali Flaiano, la Camera di Commercio di Chieti Pescara e il Porto Turistico Marina di Pescara. Subito dopo le serate di premiazione della 49esima edizione dei premi Flaiano, dal 4 al 10 luglio presso il Porto Turistico di Pescara si terrà la prima edizione della rassegna Flaiano al Marina, presentata in conferenza stampa al Media Museum. Carla Tiboni, presidente dei premi internazionali Flaiano. Abbiamo pensato che in considerazione dell'anniversario di Ennio Flaiano, il cinquantesimo della morte come sapete, fosse giusto ampliare la programmazione dei film e dal 4 al 10 saremo al Marina di Pescara, al Porto Turistico, programmeremo 14 film. L'ultimo giorno è dedicato invece alla programmazione dei cortometraggi e dei documentari del CNA, delle giovani eccellenze italiane, anzi abruzzesi, che vorremmo fossero conosciute e avessero una vetrina per poter far vedere la propria arte. Gli inglesi sono a pagamento, i prezzi ovviamente sono sempre molto contenuti. Credo che l'aspetto importante di questa nuova esperienza, la prima volta che il Flaiano è al Marina di Pescara sia sempre la conferma dell'impresa cultura e quindi dell'economia che muove la cultura, che è un'economia lavorativa, non è un'economia di guadagno per quanto ci riguarda. E poi è importante perché c'è il binomio cultura-turismo ed è veramente sinergico perché il Marina di Pescara, mi diceva il presidente, quest'anno è veramente sold out. Per Carmine Salce, presidente del Marina di Pescara, l'auspicio è che la partnership avviata quest'anno col Flaiano possa ampliarsi proficuamente. Noi siamo veramente anche orgogliosi di aver instaurato questa partnership con il Flaiano attraverso questa settimana al Marina. Abbiamo messo a disposizione la nostra struttura perché crediamo che le sinergie tra gli enti e le istituzioni che convergono su degli obiettivi comuni in un territorio sia molto importante. Naturalmente quest'anno è, confidiamo, un anno di ripartenza vera, anche se i dati sanitari continuano ad essere altrarenanti, ma per adesso noi avremo la piena fruizione della nostra struttura, quindi senza distanziamento e confidiamo che con la voglia anche di ritornare all'aperto, di ritornare ad avere dei momenti di socialità si possa raggiungere l'obiettivo prefissato.